Allora, il gelsomino notturno tratto dai canti di Castelvecchio di Giovanni Pascoli, una delle più famose liriche del poeta e a mio avviso delle più belle, sia per la densità delle immagini in essa presenti, sia per il suo valore emblematico rispetto alla poetica di Pascoli. Anche qui partiamo da immagini naturali per giungere ad un forte simbolismo che, come vedremo, assume in questo caso anche delle connotazioni psicoanalitiche. Tante sono le tematiche presenti in questa lirica. C'è anzitutto l'alternanza tra il mondo naturale e il mondo domestico, ma anche l'alternanza tra la natura e l'essere umano e più precisamente la donna, perché come vedremo qua un fiore diventa simbolo del corpo e dell'intimità femminile. Troveremo poi il tema del nido ricorrente in Pascoli, il tema dei morti e della morte anch'esso ricorrente in Pascoli, il tema dell'eros, dell'amore, affrontato in modo quasi freudiano. Ma di questo parleremo dopo quando analizzeremo la poesia verso per verso. Ora anzitutto introduciamola. Questa lirica è stata composta nel 1901 in occasione di un matrimonio, più precisamente del matrimonio dell'intimo amico di Giovanni Pascoli, Gabriele Briganti. Si tratta perciò di quello che nel mondo classico avrebbero definito un epitalamio, cioè un canto d'occasione scritto per, appunto, un matrimonio. E in effetti questa poesia è stata per la prima volta pubblicata in occasione del matrimonio di Gabriele Briganti in un opuscolo. Questo non la rende però una poesia d'occasione, cioè una poesia che ha un respiro ristretto. Riguarda quell'episodio lì e fine. No. Anzi, è una delle poesie più universali di Pascoli. Una delle poesie più senza spazio e senza tempo. tra quelle che Giovanni Pascoli ha scritto. Perché qua si va oltre non solo la biografia di Gabriele Briganti, ma anche alla biografia dello stesso poeta, per giungere appunto a un afflato universale. E che non sia una poesia d'occasione è anche testimoniato dal fatto che essa è stata ideata prima di questo matrimonio. La sua ideazione infatti risale probabilmente al 1897-98. Anzi, si dice che sia stata ideata pensando al matrimonio di Ida. Giovanni pensava al matrimonio della sorella che era stato celebrato nel 1895. Ci ricordiamo che Giovanni Pascoli visse malissimo questo matrimonio, come abbiamo visto nell'introduzione ai canti di Castelvecchio, tanto che lo visse come un tradimento ed entrò in depressione dopo questo matrimonio. Poi evidentemente si riprese, nel frattempo aveva ideato questa lirica, nel 1901 l'aveva pubblicata fuori da una raccolta poetica, poi nel 1903 finalmente questa lirica viene inserita nella raccolta poetica dei canti di Castelvecchio, nella sua prima edizione. Ora vediamo invece il metro. Il metro è un po' particolare perché si tratta di un metro classico, quello del novenario dattilico etrocaico. Noi abbiamo già visto in novembre che Pascoli tende a sperimentare nuovi modi di fare poesia utilizzando anche metri della tradizione greca e latina e trasponendoli in italiano, secondo un procedimento che aveva già utilizzato Carducci nelle O di Barbare. e ti invito a rivedere il video riguardante novembre dove spiego questo procedimento. Ecco qua, Giovanni Pascoli tenta di trasporre in italiano un metro particolare che è quello appunto del novenario dattilico etrocaico. guardiamo più da vicino. Vedete che noi abbiamo sei strofe, ma ogni strofa è divisa in due coppie diversi, quindi abbiamo due distici, un primo distico e un secondo distico. Ok? Il primo distico e il secondo distico di ciascuna strofa si distinguono sulla base degli accenti metrici che nel primo distico sono nella seconda quinta e ottava sede quindi sulla seconda quinta e ottava sillaba del verso nel secondo distico invece sono sulla terza quinta e ottava sede per dirla con termini tecnici questi primi due novenari sono giambici mentre gli altri due novenari sono anapestici allora di tutti questi termini voi non dovete ricordare nulla però per completezza sappiate che questa lirica traspone in italiano una forma metrica molto particolare cosa dovete ricordarvi? Beh, anzitutto che si tratta di novenari ok? Quindi Pasquo gli utilizza il novenario non l'endecasillabo come già aveva fatto ad esempio nell'assiolo e poi che ciascuna strofa è composta da coppie di distici è interessante perché come vedremo tranne che nell'ultima strofa che è un po' particolare nel resto della poesia ogni distico corrisponde anche ad una frase quindi c'è corrispondenza tra il metro e la sintassi praticamente vedete? ciascun distico termina infatti con il punto ecco tranne nell'ultima strofa molto importante questo c'è un ritmo perciò molto piano molto semplice apparentemente poi abbiamo visto che non lo è ma apparentemente è semplice un altro aspetto che non vi sto a spiegare ma prendetelo per buono è che il primo distico di ciascuna strofa proprio per la presenza degli accenti in quelle particolari sedi seconda quinta e ottava ha un carattere ascendente mentre nel secondo distico dove l'accento iniziale è in terza sede il carattere del ritmo è discendente quindi ciascuna strofa è quasi un'onda che sale e poi scende questo è interessante anche perché vedremo che lo stesso significato della lirica è costruito in una continua alternanza come onde che si alzano e si abbassano si alzano e si abbassano si alzano e si abbassano tutta la lirica è costruita su serie di alternanze lo hanno definito un montaggio alternato con un lessico preso in prestito dal cinema allora cominciamo a leggere questa poesia che il critico Giacomo De Benedetti ha definito una grande poesia di corrispondenze e chi vi viene in mente se parliamo di corrispondenze ma Baudelaire ovviamente Charles Baudelaire e come vedremo l'influenza di Baudelaire ad esempio nella presenza delle sinestesie non è secondaria in questa lirica ma cominciamo ad ascoltarla da un lettore professionista il gelsomino notturno e s'aprono i fiori notturni nell'ora che penso ai miei cari sono apparse in mezzo ai viburni le farfalle crepuscolari da un pezzo si tacquero i gridi là solo una casa mi sbiglia sotto l'ali dormono i nidi come gli occhi sotto le ciglia dai calici aperti se sala l'odore di fragole rosse splende un lume là nella sala nasce l'erba sopra le fosse un'apet addiva sussurra trovando già prese le celle la chiocetta per la aia azzurra va col suo picolio di stelle per tutta la notte se sala l'odore che passa col vento passa il lume su per la scala brilla al primo piano se spento è l'alba si chiudono i petali un poco gualciti si cova dentro l'urna molle segreta non so che felicità nuova ok questa è la lettura molto bella molto corretta ora cominciamo a considerare la prima strofa e saprono i fiori notturni nell'ora che penso ai miei cari ancora una volta come in altre poesie di pascoli si inizia con una congiunzione era capitato ad esempio nel lampo e nel tuono perché iniziare una poesia con una congiunzione vuol dire che c'è qualcosa prima è come se il poeta fosse in qualche modo assorto nei suoi pensieri e nelle sue meditazioni ma questi pensieri queste riflessioni non sono presenti nella nostra lirica rimangono implicite rimangono escluse dalla lirica ecco perché i critici hanno parlato di spazio pre grammaticale cioè prima della lingua prima della grammatica c'è qualcosa che il lettore non sa ma intuisce è uno dei non detti pascoliani e qua è ancora più importante del solito perché come vedremo questa lirica è tutta giocata tra il detto e il non detto tra il preciso e l'indefinito ed iniziamo con un elemento indefinito e s'aprono i fiori notturni mentre io sono qua a riflettere chissà su cosa s'aprono i fiori notturni cosa sono questi fiori notturni che si aprono la parola notturni è lo stesso aggettivo del titolo il gelsomino notturno questi quindi questi fiori notturni sono gelsomini notturni termine che indica questo tipo di fiori che secondo me voi conoscete perché si trovano anche alle nostre latitudini si tratta di quei fiori che pascoli chiama gelsomini notturni che qualcun altro chiama gelsomini spagnoli e che spesso noi definiamo le belle di notte vediamole più da vicino eccole qua le belle di notte fiori che hanno una particolarità quella di aprirsi quando tutti gli altri fiori si chiudono cioè al tramonto per poi chiudersi quando tutti gli altri fiori si aprono cioè all'alba già questo è un elemento interessante perché come vedremo l'intera lirica è giocata sull'antitesi qua l'antitesi è tra il tramonto e l'apertura dei fiori sembra quasi uno simolo no? c'è una contraddizione in termini è sera ma i fiori si aprono e i fiori sono notturni e s'aprono i fiori notturni nell'ora che penso ai miei cari si tratta del tramonto cosa fa il poeta al tramonto pensa ai suoi cari morti i miei cari sono i suoi morti evidentemente il tramonto è l'ora che volge al desiglio no? come direbbe Dante è è un è un momento della giornata in cui l'animo è più malinconico e il poeta è trasportato nel pensiero verso i suoi morti il padre la madre i fratelli già una prima antitesi il poeta che come vedremo rimane un po' da parte in questa poesia qua parla in prima persona in questo secondo verso e dice io penso ai miei cari quindi penso a un elemento funebre e nel frattempo i fiori si aprono quindi c'è un elemento di vita che si rinnova già qui c'è una prima antitesi saprono nell'ora che pensa ai miei cari il primo verso è giocato su questa antitesi sono apparse in mezzo ai viburni le farfalle crepuscolari allora è sera si sono aperte le belle di notte il poeta pensa ai suoi defunti in contemporanea avvengono delle dei micro eventi in mezzo ai viburni che sono dei fiori bianchi eccoli qua il cui nome tecnico è lantane ma possono essere chiamati anche viburni un nome popolare palle di neve perché se mi guardiamo più da vicino ecco in un'immagine sembra proprio una palla di neve ecco le farfalle crepuscolari cioè le farfalle che vengono fuori al crepuscolo cioè al tramonto di sera sono le falene attenzione qui Pasquali sapete che è un grande esperto di botanica gli piace essere preciso coi nomi gersomino notturno un nome molto preciso anche viburni anche queste farfalle crepuscolari presentano un aspetto interessante non si tratta di botanica si tratta di entomologia gozzano più avanti riprenderà questa passione pascoliana per l'entomologia e queste farfalle crepuscolari sono più precisamente la Acheronzia Atropos comunemente detta la sfinge testa di morto guardate bene infatti sul dorso di questa di questa falena non dico insetto perché non credo sia un insetto c'è sul dorso questo segno che sembra un teschio ecco perché l'animale è chiamato Acheronzia Atropos o sfinge testa di morto Acheronzia vi viene in mente l'Acheronte no il fiume infernale forse avrete in mente questa questa farfalla perché è stata utilizzata poi nel famoso manifesto per il film famosissimo con Jodie Foster e Anthony Hopkins il silenzio degli innocenti ecco ve lo faccio vedere qua è stato messo in risalto questo segno sul dorso della farfalla che è proprio un teschio ci assomiglia davvero quindi non è casuale la presenza di questa farfalla crepuscolare nella poesia di Pascomi perché come vedremo in tutta la poesia si si respira la presenza della morte proprio in contemporanea al nascere della vita saprono i fiori e sono apparse le farfalle della morte un'altra antitesi c'era l'antitesi tra l'apertura dei fiori e i pensieri funebri del poeta questi pensieri funebri del poeta sono messi in relazione anche con la presenza delle farfalle mortuarie fiori che si aprono cari a cui Giovanni Pasco di pensa viburni bianchi e farfalle che appaiono in mezzo ai fiori notate le antitesi questa prima strofa tra l'altro presenta anche tutta una serie di particolarità fonetiche c'è la litterazione della r in associazione con una vocale vedete le ho sottolineate le ho evidenziate in azzurro ro or questa non l'avevo messa ur or ar ar re ar ok soprattutto notiamo la presenza di questa rima urni notturni e viburni una rima cupa ma molto vibrante il lettore intuisce subito che c'è un aspetto cupo in questa poesia tra l'altro nella parola urni c'è un riferimento all'urna cioè dove stanno le ceneri dei defunti ma poi anche altre allitterazioni quella della s che costituisce una sorta di catena fonetica che poi andrà avanti anche per le strofe successive come vedremo ma anche la f fiori farfalle questa allitterazione serve quasi fonosimbolicamente a farci percepire dei movimenti minimi il cui rumore quasi non si sente è quasi impercettibile come l'apertura dei fiori o lo sbatterdali della farfalla fiori farfalle quindi all'interazione della s all'interazione della r un suono aspro all'interazione della f e poi questa cupezza di viburni passiamo adesso alla strofa successiva da un pezzo si tacquero i gridi è sera sta per arrivare la notte da un pezzo cioè da un bel po' qua Pasco gli utilizza un'espressione popolare a volte lo fa da un pezzo hanno taciuto i gridi attenzione qualche commentatore dice che i gridi sono i rumori del giorno altri commentatori dicono che i gridi sono invece l'estrida degli uccelli è vera probabilmente la seconda ipotesi anche perché come fa notare Luperini l'italiano presenta due possibilità di plurale per la parola grido grida che sono i rumori emessi dall'uomo e gridi che sono i rumori emessi dagli animali quale animali emettono gridi ma gli uccelli chiaramente uccelli che poi sono ripresi dalle immagini successive del distico del secondo distico di questa strofa quindi si tacca i rigridi vuol dire che gli uccelli sono andati nel nido e quindi hanno smesso di urlare e dopo le rondini sapete che fanno un suono particolare che sembra un grido ok è sera le rondini sono andate nel loro nido e quindi tacciolo da un pezzo si tacquero i gridi la sola una casa bisbiglia la letterazione della S continua da un pezzo si tacquero i gridi la sola una casa bisbiglia una nuova antitesi gli animali gli uccelli tacciono ma c'è un bisbiglio è in una casa e guardiamo l'alliterazione come fonosimbolicamente rappresenti per l'appunto questo bisbigliare si sola una casa bisbiglia cioè in una casa c'è qualcuno che parla sommessamente si introduce perciò un'immagine molto intima l'immagine della casa in cui appunto due persone come vedremo parlano in modo molto intimo molto vicine stanno bisbigliando quindi sono una accanto all'altra sono evidentemente il destinatario dedicatario dell'opera cioè lo sposo che bisbiglia parlando con la sua sposa è probabilmente la loro prima notte di nozze pascoli però dice semplicemente una casa bisbiglia dove una casa sta per due persone non sappiamo ancora che sono due lo scopriremo più avanti ma comunque sta per persone quindi si tratta di una figura retorica che conoscete si tratta di una metonimia ok o metonimia che dirsi voglia vi ricordate che cos'è la metonimia o metonimia si tratta di sostituire un termine con un altro che è semanticamente legato al primo qua il termine che è scomparso è le persone e sono state sostituite dalla casa cioè che cosa ha fatto pascoli ha sostituito il contenuto con il contenente sottolineando così l'importanza della parola casa che nella poetica pastoliana è una è un'immagine di rifugio una sorta di sostituto di sostituta della parola nido la parola casa in unione con nido era presente anche in 10 agosto no tetto nido la sola cioè soltanto una casa bisbiglia questo sola ha valore avverbiale vuol dire soltanto continua la letterazione in esse sotto l'ali dormono i nidi come gli occhi sotto le ciglia quindi ulteriore immagine vedete che le immagini si susseguono l'una dopo l'altra in modo paratattico cioè senza subordinate ma come se nascessero l'una dall'altra senza che ci sia un'argomentazione logica atta a spiegare la successione delle immagini le immagini si susseguono così quasi giusta apposte una frase per una prima i fiori poi viburni con le farfalle poi gridi delle rondini che non ci sono poi la casa e adesso l'immagine degli uccelli che dormono sotto le loro ali come similitudine gli occhi degli uomini sotto le ciglia è la ricorrente immagine pascoliana del nido che anche qua torna anticipato dalla presenza della casa qua la parola è precisa i nidi sotto le ali dormono i nidi e come una casa era metonimia per dire le persone così anche i nidi è una metonimia per dire gli uccelli il procedimento è lo stesso il contenente per il contenuto non è che la casa in sé a bisbigliare ma le persone che in essa sono presenti allo stesso modo non sono i nidi a dormire ma gli uccelli che in esso sono presenti i nidi cioè gli uccelli dormono sotto le ali sapete che gli uccelli hanno questo modo di dormire tenendo un'ala sopra il proprio muso è anche vero che Pasquali potrebbe riferirsi ai piccoli degli uccelli ai pulcini e sarebbe ancora più precisa questa indicazione dato che parliamo di nidi quindi sotto le ali dormono chi? i pulcini è un'immagine di tenerezza gli uccelli pongono la propria ala protettrice per tenere al caldo e protetti i loro piccoli come gli occhi degli uomini in questo caso dormono sottointeso sotto le ciglia sotto l'ali è analogo a sotto le ciglia in una posizione chiastica si tratta di un chiasmo no? sotto l'ali i nidi gli occhi sotto le ciglia una struttura cioè ABBA una struttura AX gli uccellini dormono e dormono anche le persone come gli occhi sotto le ciglia e qua abbiamo una terza metonimia ce ne sono tre in tre versi perché gli occhi non dormono sotto le ciglia ma sotto le palpebre le ciglia sono una parte delle palpebre anche qua abbiamo perciò un'ulteriore metonimia dove Pasco l'indica una parte per il tutto le ciglia al posto delle palpebre vi ricordate come si chiama quella particolare forma di metonimia in cui si indica una parte per il tutto si chiama sineddoche ripeto per chi non abbia capito che la sineddoche non è diversa dalla metonimia è una particolare forma di metonimia in cui il tutto è sostituito da una parte come in questo caso in cui le ciglia sostituiscono le palpebre ripetiamo che cosa abbiamo visto si aprono dei fiori il poeta che si trova immerso in questa natura pensa ai propri cari appaiono farfalle un po' funebri non ci sono più le grida delle rondini c'è qualcuno là in una casa mentre tutti gli altri uccelli e uomini dormono attenzione il poeta come vedremo meglio più avanti non si trova nella casa si trova fuori ecco perché dice là 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 in quella casa sta succedendo qualcosa vediamo meglio terza strofa dai calici aperti si esala l'odore di fragole rosse dai calici aperti si esala l'odore di fragole rosse cosa sono questi calici aperti qua il termine è tecnico è il calice dei fiori ok eccolo qua questo qua è il calice dei fiori vedete che sembra proprio un calice uno di quegli oggetti per bere quindi si tratta del calice dei gersomini notturni di cui ha parlato in precedenza che si erano aperti appunto al crepuscolo ecco questo è il calice questi fiori sono molto profumati di sera si aprono di sera si aprono e si esala un profumo che sembra il profumo di fragola allora intanto il verbo si esala è un verbo molto utilizzato da pascoli lo utilizza ad esempio anche in digitale purpurea per dire proprio un profumo inebriante che riempie l'atmosfera attenzione siamo proprio nel punto focale della poesia vedete che il termine si esala e l'odore che è soggetto di si esala è in enjambement lo vedete che c'è un enjambement cioè una divisione tra due versi di un sintagma cioè di un'unità sintattica ecco questo è l'unico enjambement delle prime cinque strofe che vi avevo detto che sono molto omogenee cioè la struttura sintattica e la struttura metrica si corrispondono in questo caso però abbiamo un enjambement che si ripete anche due strofe dopo si esala l'odore vedete si esala l'odore si esala l'odore il fatto che solo questi termini siano enjambement è significativo vuol dire che questo odore che si esala è importante tra l'altro è l'unica rima che si ripete all'interno della poesia vedete questa poesia ha una rima ABAB ok ABAB C T C D che fa notare appunto questi dischi ecco in questo caso la rima della della terza strofa si ripete nella quinta ed è l'unico caso quindi vuol dire che questo si esala l'odore è importante è un po' la chiave per leggere la poesia perché le belle di notte i gelsomini notturni profumano a cosa serve il profumo dei fiori serve per attirare gli insetti cosa fanno gli insetti nei fiori fanno quel lavoro che si chiama impollinazione cioè gli insetti servono ai fiori perché questi si riproducano quali animali producono l'impollinazione beh le farfalle ad esempio di cui aveva parlato prima ma anche le api di cui parlerà dopo insomma ci sono degli insetti in questa poesia ci sono dei fiori perché perché è il riferimento di Giovanni Pascoli appunto all'atto dell'impollinazione cioè all'atto della riproduzione della natura dell'eros naturale se così si può dire dai calici aperti cioè dai fiori aperti giunge il profumo che richiama gli insetti perché le piante si riproducano ma attenzione come sarà reso poi evidente nella alla fine di questa lirica questo calice aperto aperto per l'impollinazione ha anche un valore simbolico esso è infatti analogo all'utero femminile io vi propongo questa immagine che vi fa vedere proprio l'analogia anche morfologica tra il calice del fiore e l'utero femminile certo Pasquale non ce l'avrebbe mai presentata così con un'immagine così cruda l'immagine di Pasquale è molto più delicata ma vuol dire proprio questo ricordiamoci che questa poesia è un epitalamio c'è una poesia scritta in occasione di un matrimonio e qual è il frutto del matrimonio la nascita dei figli allora cosa ci sta dicendo Giovanni Pascoli ci sta dicendo che c'è un'analogia tra la riproduzione dei fiori tra l'eros naturale e l'atto sessuale umano cioè l'eros dell'uomo se noi guardiamo infatti bene dai calici aperti si esala un profumo termini vagamente erotici che divengono chiaramente erotici quando questo profumo è definito di fragole rosse ora c'era bisogno di dire che le fragole sono rosse no evidentemente un profumo di fragole è sufficiente no perché Pasquale ha utilizzato questo termine rosse perché cromaticamente il rosso è un segno della sessualità inoltre la parola rosse consiste anche in una sinestesia rappresenta una sinestesia perché perché Giovanni Pascoli in questo caso unisce la sensazione olfattiva si esala l'odore di fragole con la sensazione visiva fragole rosse come se il rosso delle fragole aumentasse la sensazione del profumo è un aspetto sinestetico molto modleriano cioè il rosso fa diventare più profumate le corolle dei fiori versi successivi splende un lume là nella sala come se il poeta guardasse la casa di cui ha parlato prima dall'esterno vede solamente le luci dietro le finestre al piano inferiore c'è una sala lì c'è ancora una luce accesa mentre tutti dormono tutti dormono ma la natura è viva è viva la natura umana ed è viva la natura delle piante splende un lume là nella sala perché i due sposi sono in sala accesi del desiderio l'uno dell'altro perché che cos'è il profumo che esala dai calici aperti simbolicamente se non il desiderio sessuale dei due sposi splende un lume là nella sala i due sposi hanno ancora la luce accesa in sala e si stanno desiderando quindi c'è un elemento di vita fortemente un elemento fortemente vitale in questa poesia ma in contemporanea ancora un'antitesi mentre si celebra la vita degli sposi e dei fiori Pasquoli ricorda ancora un elemento mortuario le fosse nasce l'erba sopra le fosse le fosse sono le fosse dei suoi cari defunti il termine fosse è un termine funebre però cosa succede sulle fosse nasce l'erba cioè si riproduce il mistero della vita è l'idea della morte che ha spesso Giovanni Pasquoli nei canti di Castelvecchio la morte come un rinascere della vita non si può far tornare in vita la natura se questa prima non muore la celebrazione della vita si estende anche alle fosse dei morti mentre avviene l'atto sessuale dei fiori o dell'uomo cresce l'erba sopra le fosse anzi nasce l'erba sopra le fosse cioè il ciclo della natura torna al punto di partenza dalla morte alla vita vi ricordate che questa lirica iniziava con un e e saprono i fiori notturni cioè e rinasco nei fiori notturni si riaprono alla vita ecco che cosa c'era prima c'era il fatto che essi fossero chiusi quindi un continuo circolo chiusura e apertura chiusura e apertura morte e vita morte e vita ve l'avevo detto che questa è una poesia dell'alternanza e del ciclo non ci può essere la vita se prima non c'è la morte la morte quindi è positiva è consolatoria perché essa riprodurrà la vita un'immagine ancora poi al verso successivo quella dell'ape sembra apparentemente non centrare niente con quello che è stato detto con quello che è stato detto poco anzi un'ape tardiva cioè un'ape ritardataria le api come abbiamo visto prima insieme alle parfalle sono quegli insetti che vanno a fare l'impollinazione un'ape è tornata da questo da questa impollinazione e vuole rientrare nel suo alveare ma in ritardo un'ape tardiva sussurra cioè ronza trovando già prese le celle sapete che gli alveari sono fatti di tante piccole cellette in cui ci sono le apine questa ape arriva troppo tardi e tutte le cellette sono già occupate strana questa immagine sembra non centrare davvero niente con il resto però abbiamo detto che c'è una presenza in questa poesia di una persona che sta fuori dalla casa ad esempio mentre in casa il novello sposo e la novella sposa stanno per celebrare il loro amore sessualmente c'è anche chi è escluso da questa dimensione erotica è proprio il poeta Giovanni Pascoli l'ape tardiva è lui è il poeta è Giovanni Pascoli il quale si trova escluso dalla possibilità della paternità il quale si trova escluso dalla possibilità di formare una nuova famiglia perché le celle sono già prese il mondo degli adulti diciamo così la costruzione di un nuovo nido con una donna è preclusa al poeta non che il poeta non volesse il poeta voleva anche a un certo punto in una poesia dei canti di Castelvecchio che si intitola Addio Pascoli scrive oh se rondini rondini anch'io io li avessi quattro rondinotti dentro questo mio nido di sassi cioè nel suo nido di sassi in casa sua lui vorrebbe avere dei rondinotti cioè vorrebbe vedere degli uccellini vorrebbe avere dei bambini ma non può non è in grado e aveva tentato anche a un certo punto di sposarsi aveva vagheggiato un matrimonio con sua cugina in questo caso però era stata la sorella Maria che lo aveva fatto andare in fumo perché non accettava che dopo quello di Ida vi fosse un secondo tradimento una ulteriore definitiva spaccatura all'interno del nido e quindi Giovanni Pascoli rimase sempre con sua sorella Mariù o Maria intrattenendo questo rapporto che secondo alcuni può essere definito morboso non so se possiamo definirlo tale ma certamente questo gli impediva di crearsi una nuova famiglia lo vedremo meglio più avanti questo aspetto